Se nella vostra vita vi è capitato anche solo di intravedere delle equazioni della meccanica quantistica, avrete notato molto probabilmente la presenza al loro interno della lettera i minuscola, che non è altro che la cosiddetta unità immaginaria che caratterizza i numeri complessi. Questo significa che in meccanica quantistica si fa un larghissimo uso dei numeri complessi. I veri motivi però per cui i numeri complessi sono così importanti e fondamentali in meccanica quantistica spesso sono sconosciuti ai più, anche ai fisici stessi. Vediamo oggi insieme uno di questi motivi. Bentornati su Random Physics! Uno dei primi concetti che si incontra quando si inizia a studiare la meccanica quantistica è che la natura, a livello fondamentale, si comporta come un'onda. In particolare che la materia, anche quella dotata di massa, va descritta in termini di onde. Più in particolare poi parliamo di onde di probabilità. Ma come si descrivono le onde? Beh, ci sono diversi modi matematicamente di descrivere il concetto di onda. Lo si può fare tranquillamente usando i numeri reali. Infatti chi ha studiato un po' di fisica, ad esempio all'interno delle scuole superiori, avrà visto le onde, ma raramente avrà utilizzato i numeri complessi per descrivere le onde. Esiste però poi un altro modo di descrivere i moti, i cosiddetti ondulatori, o se vogliamo i cosiddetti moti armonici, che fa uso proprio dei numeri complessi. Ve ne ho parlato anche all'interno di un video di un po' di tempo fa che vi lascio qua in descrizione. In sostanza noi possiamo, in modo molto sintetico e pulito, implementare i numeri complessi all'interno di una descrizione della matematica delle onde. In questo modo siamo in grado di descrivere le onde e diversi fenomeni legati alle onde, come ad esempio il fenomeno dell'interferenza, in modo concettualmente semplice. A partire da questa osservazione sulle onde, quando noi poi ritroviamo i numeri complessi in meccanica quantistica, spesso ci convinciamo che il motivo per cui li troviamo lì sia dovuto solo al fatto che la meccanica quantistica è una teoria che si basa essa stessa sul concetto di onda, anche se in modo più complesso e più strano se vogliamo, a un certo punto ci si abitua così tanto alla presenza continua dei numeri complessi all'interno delle equazioni della meccanica quantistica che non ci si fa più caso. Lo si dà completamente per scontato, ma se uno a un certo punto si ferma e si chiede, ma come mai sto utilizzando i numeri complessi? La risposta potrebbe non essere così ovvia, perché i numeri complessi in realtà sono insediati in modo molto profondo all'interno della natura stessa della meccanica quantistica. Adesso vediamo come mai. E per farlo dobbiamo parlare brevemente del cosiddetto teorema di Noether. Si tratta di un teorema molto importante all'interno della cosiddetta meccanica analitica o meccanica razionale, ma in realtà è un teorema che poi trova delle ripercussioni in tantissimi, o se vogliamo, quasi tutti gli ambiti della fisica. Si tratta di un argomento che in realtà meriterebbe un video a sé, ma per riassumere brevissimamente il teorema di Noether, l'idea principale è che le cosiddette simmetrie in fisica hanno come conseguenza delle leggi di conservazione di certe quantità. Vi ricordo come al solito che il modo migliore per sostenere questo mio progetto di comunicazione della fisica è mettere un mi piace a questo video e iscrivervi al canale. Oltretutto, se andate a vedere il link in descrizione, troverete tante magliette e altri accessori a tema scientifico e fisico. Ma torniamo a noi. Allora, che cos'è una simmetria in fisica? Beh, uno dei modi più semplici di descrivere questo concetto è l'idea di una trasformazione, una trasformazione dei parametri con cui noi stiamo descrivendo il nostro sistema fisico, ad esempio una trasformazione delle coordinate spaziali o temporali, che mantenga invariata la fisica stessa, cioè che mantenga invariate le leggi con cui noi descriviamo la fisica del nostro sistema. Da un punto di vista più tecnico poi si dice che le simmetrie devono lasciare invariata la cosiddetta azione, ma qui parliamo già di cose più avanzate. Se io svolgo un certo esperimento in questa zona della mia stanza, se adesso traslo il mio esperimento di mezzo metro, chiaramente devo trovare la stessa fisica. Se io mi trovo nelle stesse condizioni, in altre parole, devo trovare gli stessi risultati dal mio esperimento, altrimenti significherebbe che la mia fisica non è invariante per traslazioni spaziali e questo è un problema. D'altro canto, io devo essere anche certo che la mia fisica funzioni oggi come domani, quindi se io descrivo il mio esperimento in questa stanza, svolgo l'esperimento e ottengo dei risultati in accordo con la mia descrizione precedente, se io rifaccio tutto ciò domani, cioè fra 24 ore, allora devo ritrovare gli stessi risultati e la mia descrizione della fisica deve essere invariata dopo questa traslazione temporale. Il teorema di Neuter dice una cosa semplicissima. A ciascuna di queste simmetrie deve corrispondere una quantità conservata, cioè una grandezza fisica conservata. Vi faccio degli esempi. Nel primo caso, quello della traslazione spaziale. Bene, a questa traslazione spaziale, cioè a questa simmetria data dalla traslazione spaziale, deve corrispondere la cosiddetta conservazione della quantità di moto, mentre invece alla traslazione temporale, cioè alla simmetria data dalla traslazione temporale, deve corrispondere la conservazione dell'energia meccanica, o se vogliamo più semplicemente la conservazione dell'energia. Il teorema di Neuter quindi ci dice che alle simmetrie corrisponde una certa legge di conservazione di qualche grandezza fisica. Ora, da un punto di vista matematico, ci si potrebbe chiedere quando vale il teorema di Neuter, cioè in quali condizioni si ha effettivamente questa corrispondenza fra trasformazioni, o meglio simmetrie e quantità conservate. Per esplorare più a fondo questo legame fra questi due concetti, si può provare a aggiungere alla nostra descrizione un po' di tecnica da un punto di vista matematico, cioè una descrizione matematica più approfondita che viene fornita dal cosiddetto formalismo hamiltoniano, che è un formalismo molto potente che ci permette di riesprimere tutta la meccanica classica in un modo molto più trasparente proprio da un punto di vista legato alle cosiddette simmetrie appunto dei nostri sistemi fisici. Ora dobbiamo introdurre brevemente tre concetti nuovi, ma tranquilli, sono concetti semplicissimi. Abbiamo il concetto di stato, il concetto di osservabile e il concetto di generatore. Sono tre concetti molto importanti proprio nella meccanica hamiltoniana, che però non è altro che una riespressione della meccanica classica di Newton. Quindi in realtà si tratta di tre concetti che posso spiegarvi in modo abbastanza semplici. Allora, uno stato non è altro che una descrizione matematica di un sistema fisico. Quindi se vogliamo, in meccanica hamiltoniana, uno stato è semplicemente il sistema fisico in sé, cioè è l'insieme di tutte le informazioni rilevanti legate a quel sistema fisico. Quindi, diciamo, tutte le informazioni legate alle posizioni dei vari oggetti che costituiscono quel sistema fisico, a tutte le varie velocità e così via. Che cos'è invece un osservabile? Beh, un osservabile è un oggetto matematico, se vogliamo, che associa a quel sistema fisico un numero reale. Detto così può sembrare molto complicato, ma in realtà si tratta di una cosa che voi fate ogni giorno. Quando voi dite, ad esempio, all'interno di questo sistema fisico ci sono 20 kJ, o se vogliamo, quando voi dite quell'oggetto che sta precipitando da quell'altezza, oppure quell'oggetto che si sta muovendo a quella velocità possiede 100 kJ, voi state assegnando un numero reale, con tanto di unità di misura, a un sistema fisico. Ecco, le osservabili fanno questo. Le osservabili assegnano a un sistema fisico un numero reale. Tutto qui, un numero reale che poi sarà, diciamo, una vera e propria misura legata a una misurazione effettuata su un sistema. Quindi i concetti di stato e di osservabile sono abbastanza elementari. Che cos'è invece un generatore? Più in particolare parliamo di generatore, di una certa trasformazione. Di base un generatore è sempre un concetto matematico che bisogna applicare al nostro sistema fisico per provocare quella trasformazione voluta. Ritornando alle trasformazioni di cui vi ho parlato prima, ad esempio alle traslazioni spaziali, noi, se abbiamo il nostro stato, quindi l'insieme di tutte le informazioni che costituiscono quel sistema fisico, e vogliamo che questo stato subisca una traslazione spaziale, dobbiamo generare questa traslazione spaziale. E per generarla dobbiamo utilizzare appunto un generatore, quindi un oggetto matematico che se agisce su quello stato provoca questa trasformazione, questa traslazione spaziale che da sola non può avvenire. Ci vuole appunto un oggetto che generi questo tipo di trasformazioni. Mi rendo conto che abbiamo introdotto concetti un po' complessi, ma il vantaggio è grande. Infatti adesso siamo in grado di esprimere il teorema di Noether in un modo molto più pulito ed elegante. Prima di farlo però devo sottolineare il fatto che anche se abbiamo detto che in meccanica classica ci sono le osservabili e poi ci sono i generatori, in realtà questi due concetti sono interscambiabili, cioè osservabili e generatori in molti casi si possono considerare equivalenti. Più precisamente le osservabili si possono identificare con i generatori e viceversa i generatori si possono identificare con le osservabili. E questo accade quando il teorema di Noether è appunto valido. Ritornando agli esempi che abbiamo fatto prima, quando noi diciamo che le traslazioni spaziali, simmetrie, hanno come conseguenza la conservazione della quantità di moto, allora noi adesso sappiamo che con la quantità di moto il teorema di Noether funziona. A questo punto noi possiamo immaginarci la quantità di moto di un sistema sia come se fosse una vera e propria osservabile, cioè la quantità di moto si può esprimere come numero reale, quindi in quel caso noi stiamo identificando la quantità di moto come osservabile, ma in realtà quella quantità di moto si può anche considerare come la generatrice delle traslazioni spaziali. Quindi in meccanica classica, quando vale il teorema di Noether, le osservabili possono anche fungere da generatori e viceversa, nei casi in cui, appunto, come vi ho appena detto, il teorema di Noether sia valido. Si trova quindi che in meccanica classica, quando noi riusciamo a identificare le osservabili con i generatori delle nostre simmetrie, siamo in grado anche di esprimere il teorema di Noether in un modo molto pulito ed elegante, cioè dicendo che il generatore A genera una trasformazione che conserva l'osservabile B se e solo se il generatore B genera una trasformazione che conserva l'osservabile A. E, come vi ho detto, questa identificazione delle osservabili con i generatori è molto chiara in meccanica hamiltoniana, è proprio lampante ed evidente. E ciò è dovuto al fatto che sia le osservabili sia i generatori fanno parte della stessa, si dice, algebra. In particolare parliamo della cosiddetta algebra di Poisson. Fino adesso abbiamo parlato di meccanica classica, ma naturalmente questo video deve parlare di meccanica quantistica. Quindi come mai adesso salta fuori la meccanica quantistica e soprattutto cosa c'entra nei numeri complessi? Beh, la cosa interessante è che in meccanica quantistica di base questa identificazione fra generatori e osservabili non c'è. A salvare tutto quanto e a rendere il quadro coerente e a far tornare questa identificazione delle osservabili con i generatori sono proprio i numeri complessi, cioè è proprio quella I complessa, quella I unità immaginaria di cui vi parlavo all'inizio del video. Non si tratta sicuramente di argomenti semplici, anzi stiamo parlando proprio di frontiere della ricerca in fisica matematica. Ma si scopre che a un certo punto il ruolo dei numeri complessi è come se emergesse dalla meccanica quantistica nel momento in cui noi cerchiamo di far corrispondere le osservabili con i generatori e quindi di far valere il teorema di Noether. Quindi la presenza dei numeri complessi in meccanica quantistica è prima di tutto una condizione sufficiente per far sì che questa teoria contenga e contempli il teorema di Noether con la stessa profondità della meccanica classica, ma poi andando avanti si scopre che in realtà i numeri complessi e la loro presenza sono condizioni necessarie all'interno della meccanica quantistica, proprio per mantenere questo punto di vista profondo sulle simmetrie. Non dobbiamo infatti dimenticarci che il teorema di Noether è profondamente radicato all'interno di tutta la fisica moderna e non solo. Quindi non stiamo parlando di un teoremino che si usa ogni tanto, ma è un teorema che riguarda il profondissimo legame che c'è fra simmetrie e leggi di conservazione. E non esistono teorie fisiche che si salvino. Tutte quante contengono importantissime conseguenze di questo teorema, dalla teoria quantistica dei campi alla teoria della relatività generale. E sapere che grazie alla meccanica hamiltoniana noi siamo in grado all'interno di tutte queste teorie così diverse tra di loro di identificare le simmetrie con le leggi di conservazione, identificando le osservabili con dei generatori, è molto importante e oltretutto questo ha come conseguenza proprio la presenza dei numeri complessi in meccanica quantistica. Abbiamo quindi capito, grazie al video di oggi, che i numeri complessi non esistono in questa teoria solo perché è una teoria ondulatoria, ma il ruolo cruciale dei numeri complessi è quello di mantenere questa coerenza trasversale su tutta la fisica del significato del teorema di Noether. Spero che siate riusciti a seguirmi fin qui, non preoccupatevi, non avete fatto così fatica solo perché si tratta di un video sulla fisica e voi non siete fisici. Questi sono argomenti molto complessi per chiunque, anche per chi studia fisica. L'unico altro modo di affrontarli è andare proprio a studiare e fare i calcoli. Quindi non pensate di aver capito poco, avete capito fin troppo, queste sono cose molto belle, molto affascinanti, anche se purtroppo molto poco intuitive. Se avete domande scrivete un commento, mi raccomando, non rimanete lì con i vostri dubbi, scrivete commenti, io sarò ben felice di rispondervi. Se poi si instaura una discussione, tanto meglio. In descrizione trovate un articolo su questo argomento, anche se parliamo di un articolo di ricerca scritto in inglese, quindi non è proprio banalissimo da capire, probabilmente questo video è molto più comprensibile di quell'articolo. E detto ciò, io vi saluto e noi ci vediamo mercoledì con un prossimo video. Ciao ciao!